Era molto importante perché ci tenevamo a partire col piede giusto, sapevamo che di fronte c'era una squadra che veniva con tanto entusiasmo perché arriva da una promozione e quindi sapevamo le difficoltà, la squadra è stata brava soprattutto a reagire sotto di un gol, poi è andato sotto il secondo gol e noi siamo molto contenti perché ho visto una reazione importante, poi sicuramente abbiamo commesso degli errori dove bisogna lavorare però è un mese che lavoriamo insieme quindi credo sia anche normale, però la cosa importante è stata la reazione che è quello che penso che per un allenatore è la cosa più importante Sicuramente la reazione è stata fondamentale nel primo tempo due volte in svantaggio, poi nella ripresa il Benevento è partito bene forse ha peccato di abbassarsi troppo, ha abbassato molto il baricentro concedendo spazio ad un'Alessandria che non poteva fare altro che attaccare visto che il risultato era fermo sul 4-2, questa è la vera nota negativa? No, sul 4-2 l'Alessandria è anche il primo tempo, ci aspettava per poi ripartire sull'errore nostro, su un eventuale errore da parte nostra il secondo tempo poi il terzo gol ci ha un po' condizionato perché da un errore individuale abbiamo subito il calcio di rigore poi gli ultimi 15 minuti ci siamo un po' abbassati, però credo che in questo momento sia anche normale non c'è la condizione fisica per 90 minuti, abbiamo qualche giocatore che ancora non ha i 90 minuti e quindi tipo a Campora, ancora non ha i Moncini, idem, ma la cosa importante era vincere e da domani analizzare subito gli errori perché ne abbiamo commesso degli errori, lo sanno anche i ragazzi però ripeto, quello che per me è importante è non mollare mai la reazione, la voglia di voler ottenere i tre punti la sofferenza perché quando una squadra soffre per portare a casa i tre punti significa che è un fattore positivo Una curiosità, il 4-2-3-1 sarà l'alternativa al 4-3-3 o anche figlio del fatto che comunque non avevi altri centrocampisti io parlo di esperienza a disposizione perché chiaramente, vabbè, te io è infortunato, a Campora non ha ancora i 90 minuti nelle gambe perché è una cosa che io ho notato soprattutto nel primo tempo e che con la tua filosofia di gioco che è quella che chiede ai terzini di spingere parecchio soltanto con due centrocampisti la difesa rischia un po' di andare in affanno Sì, ma anche con i tre centrocampisti rischi di andare in affanno perché quando porti tanti giocatori sopra linea palla la cosa più importante è non forzare la giocata quello che è soprattutto fare le coperture preventive noi abbiamo sbagliato in quello perché noi cercavamo sempre di portare più uomini possibili in alti però poi sbagliavamo sulla copertura preventiva e soprattutto non dovevamo forzare in certe zone di campo non dovevamo forzare la giocata quello che abbiamo sbagliato secondo me questo è un errore da correggere e anche presto perché poi a me piace che la squadra comandi il gioco una squadra che sia sempre propositiva però per essere propositivi bisogna sempre cercare un equilibrio in mezzo al campo e con i due difensori centrali centrocampo a due a tre cambia relativamente perché poi avere un vertice basso, un vertice alto dipende sempre nell'impostazione di gioco io chiedo tanto nella fase di costruzione al portiere tanta manovra e quindi cerco di recuperare quel giocatore che manca al centrocampo anche con il portiere nella costruzione Studio Mister, ben trovato la vittoria a 4-3 finale lo sottolineava poco fa lo dicevamo anche da studio la risposta emotiva una squadra che non ha subito il contracolpo del gol del rigore sbagliato poi comunque trasformato da insigne e anche del 2-1 questa è la nota lieta chiaramente al netto degli errori da cancellare Sì, ma ripeto abbiamo fatto delle cose molto buone e tante cose negative bisogna lavorare soprattutto sulle cose negative perché poi abbiamo giocatori di qualità davanti soprattutto davanti e dobbiamo cercare di portare la palla più pulita possibile nei giocatori davanti perché se iniziamo a calciare palla alta soprattutto con i giocatori di questa sera Sau, Insigne, Improta, Elia giocatori che come caratteristiche sicuramente non le avvantaggiamo con la palla alta quindi per forza di cose qualche rischio lo dobbiamo dobbiamo cercare di evitarlo però qualche rischio purtroppo dobbiamo metterlo anche in preventivo Mister, buonasera questa sera non era facile sviluppare la manovra perché praticamente il nostro playmaker Calò è stato marcato a uomo in ogni zona del campo da Bà nonostante ciò il Benevento credo che per buona parte della gara abbia sviluppato lo stesso un buone trame di gioco pur non avendo la possibilità di giocare attraverso il playmaker non so se lei è d'accordo Sì, no, no, sono d'accordo infatti l'Alessandra era molto bassa ci aspettava non veniva a pressare alti non ci veniva a pressare alto perché poi si creavano degli spazi tra le linee quindi questo magari tenendo la squadra corta andavano a uomo su Calò che è il nostro punto di riferimento nella costruzione del gioco ma allo stesso tempo abbiamo fatto bene con la manovra anche con i terzini che solitamente gli chiedo loro di stare molto alti in questa partita soprattutto all'inizio li volevo molto bassi per poter spingere loro in una pressione alta cosa che poi alla fine non facevano e quindi non riuscivamo a trovare quegli spazi che cercavamo all'inizio grazie mister Sonia a te ultimissima andiamo sempre sull'aspetto tecnico visto che siamo anche in tema di mercato il Benevento ha calciatori che crossano tantissimo perché lei prima parlava anche dei passaggi alti riferisco a Masciangelo, a Fulon, a Improta, a Letizia non sarebbe opportuno avere come alternativa qualche centimetro in più nel reparto avanzato oppure la preferenza è per palla a terra come gioco? No, questa è sicuramente la preferenza però io sono contento della rosa che ho attuale sono contento di allenare il Benevento sono contento della rosa a disposizione quindi mi limito a fare l'allenatore poi è normale che confrontandoci poco con il direttore sappiamo, noi abbiamo anche la Padula e il Rosa che al di là delle voci di mercato e di quello che sento dire è a tutti gli effetti un giocatore del Benevento in questo momento non si sta allenando con la squadra per un problema fisico però abbiamo anche il Rosa, la Padula, c'è Moncini abbiamo anche struttura lì davanti in questo momento per forza di cose abbiamo anche di serio che è strutturato per forza di cose per quello che abbiamo detto prima Moncini ancora non ha 90 minuti e quindi inevitabilmente con il Sao perdiamo un po' di centimetri però durante la manovra siamo molto più bravi rispetto a uno più strutturato di mercato non mi piace parlare non è il mio compito parlare e mi limito a fare l'allenatore è un po' di quindi Grazie.